La Federico II è pronta a formare i manager del turismo, professionisti del settore, tra le principali risorse economiche del bel paese, saldamente piazzato al sesto posto per incoming turistico a livello mondiale. L'Ateneo Napoletano lancia infatti il primo master universitario di primo livello in Hospitality and Destination Management. Il progetto è dedicato per l'appunto alla formazione di competenze nel management turistico, alla creazione di professionalità che sappiano gestire il business in maniera sistemica con conoscenze digitali e capacità manageriali. Per i dettagli sentiamo la professoressa Valentina della Corte, coordinatrice del master. Il master è un master di primo livello in Hospitality and Destination Management che abbiamo deciso di lanciare insieme alla University of South Florida. È un master che si terrà online, ovviamente lo stagio sarà in presenza e si potrà svolgere in qualsiasi parte del mondo lo si desideri. Oltre alle dinamiche gestionali delle imprese, del settore turistico, in particolare dell'ospitalità, il master tende anche a favorire delle conoscenze e anche competenze nell'ambito del destination management, perché oggi questa è una esigenza enorme. In tutto il mondo le destinazioni svolgono un'attività ormai estremamente competitive e occorrono dei profili ad hoc per favorire la collaborazione tra competitor, sviluppi locali di offerta che siano adeguati e innovativi e quindi questo richiede le competenze specifiche. Il master è rivolto a studenti che abbiano già conseguito la laurea triennale, professionisti, operatori del settore e imprenditori. Sarà possibile presentare le domande per l'iscrizione al master fino al primo luglio prossimo. Disponibili 30 posti. L'iniziativa è stata presentata al Grand Hotel Oriente di Napoli. Sentiamo Giuseppe Busetti, general manager della struttura e presidente dell'associazione dei direttori d'albergo della Campania. È importante che ci sia una formazione ad alto livello e che ci sia comunque un legame anche con quello che è poi il vero mondo del lavoro, che molto spesso è scollegato.